Soprattutto garantisce quello che è l'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociosanitari e servizi sociali. A San Giovanni Valdarno a breve arriverà la casa della comunità ABBA. Si tratta di una delle strutture di sanità territoriale previste dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza Next Generation EU. In Toscana ne sorgeranno 72, sono previste nel Valdarno una a San Giovanni ed un'altra a Terra Nuova Bracciolini. Mentre a Cavriglia sorgerà l'ospedale di comunità. La possibilità di un accesso a cure qualificate prossima alla propria abitazione diventa per questo fondamentale. Anche perché l'idea e quindi l'obiettivo è quello di generare salute là dove una persona vive. E quindi in questo modo contrastare il più possibile l'istituzionalizzazione di una persona. Che avviene quando l'istituzione di salute si compromette in maniera tale che uno non è più autosufficiente e quindi da qui l'ingresso in ospedale oppure in RSA. La casa di comunità AB rappresenta un'estensione della casa della salute in termini di servizi al cittadino. È una struttura di utilità pubblica che erogherà prestazioni e servizi sociosanitari territoriali. Per quanto riguarda la localizzazione la casa della comunità AB sorgerà in Viale Gramsci. Mai come dopo questi due anni di pandemia noi abbiamo compreso la necessità di avere delle strutture di sanità territoriale di prossimità che rafforzino la medicina generale e le cure intermedie. Per questo quando la regione toscana e l'Asla hanno cominciato a pianificare la distribuzione delle case di comunità AB nel nostro Valdarno, San Giovanni Valdarno si è candidata per poter avere questa struttura veramente importante e di rilievo per l'assistenza, per la presa in carico soprattutto delle cronicità. Per quello che riguarda la localizzazione l'amministrazione comunale ha preso in considerazione diverse opzioni, ha lavorato su diverse opzioni soprattutto per trovare la localizzazione migliore.